Start, 2, 1, Mystery Mission, and Liftoff! Sullo romanzo famoso di Stanislav Lambs e ha un'ambientazione che a me onestamente piace molto, che è la fantascienza anni 60, quindi stampo sovietico insomma. Voglio cominciarlo da capo perché voglio farvi vedere un pochino come funziona, insomma è un'avventura dove dovremo farci strada, insomma avremo vari dialoghi che potremo affrontare. Non l'ho trovato eccessivamente difficile a livello di inglese, ma praticamente che cosa succede? Siamo sulla Dragonfly, una piccola unità di ricerca del Commonwealth interplanetario con un equipaggio di 6 viaggiatori in distanti regioni dello spazio. Dopo aver visitato molti mondi ed aver esplorato diversi pianeti, la missione di ricerca arriva alla fine, insomma. Tuttavia la via per casa richiede ancora un compito. Nonostante il rischio, Astrogator e Novik trovano la possibilità di estrarre dei minerali rari. Novik accoglie il minerale, ma al costo di una gamba rotta e tantissimo dolore. Novik è uno dell'occupaggio. L'incidente all'Astrogator, che non so cosa sia, non ferma la crew dal celebrare la fine del ciclo della ricerca. Era, vabbè, insomma, si sentivano invincibili, si rimettono nelle camere, diciamo, per dormire e tornare a casa. Ma qualcosa non va per il verso giusto. Siamo Jasna e ci domandiamo dove siamo. È un gioco un po' come quello che avevamo già visto ambientato sulla Luna e poi su Marte. Insomma, io ho portato solo quello sulla Luna. Quindi è un'avventura senza eccessivi, diciamo, bivi, biforcazioni, insomma. È un'esperienza che noi viviamo a scopo immersivo per poterci sentire lì davvero, poter sentire i suoni ambientali, poter vivere la storia. In questo caso, vedete, posso parlare, tenendo premuto spazio e poi... Jasna ha la base. Base, questa è Jasna. Ho bisogno di un recupero, di soccorso. E siamo molto... Cioè, la visuale è proprio quella all'interno dello scafandro. Chiamiamolo così perché siamo comunque in un'ambientazione degli anni 60. Ho la vista annebbiata, dolore all'obbo frontale, confusione. Vedete? E cioè, è abbastanza comprensibile, insomma. Poi, l'ho detto, non è un gioco di ruolo da un milione di righe di testo, quindi magari qualcuno lo tradurrà, insomma. Però, al momento, siamo esclusi. Ve lo voglio far vedere giusto dall'inizio perché non ha senso iniziare dopo, insomma. Lo viviamo insieme e vediamo un pochino com'è. Punta tutto appunto sull'esperienza, un po' come guardarsi un film, leggersi un libro, insomma. Quindi abbiamo un'ambientazione di un certo tipo, abbiamo tutte queste interazioni con... Poi potremmo usare i vari oggetti, insomma. Qua vedete che abbiamo un cavo mezzo scollegato, in pratica ci sta dando dei problemi. Tiene anche molto spazio. Base, vi ho sentiti per un momento. Infatti si è sentito qualcosa nella radio. Il mio ricevitore è morto, ma il trasmettitore potrebbe ancora funzionare. Infatti questi sono classici zaini di fantascienza, insomma, di quegli anni lì. Ogni volta che esce la mano possiamo cliccare, vedete che qua abbiamo... Ci manca il beacon. Che troveremo poi, probabilmente. E questo è il livello di ossigeno. Quindi abbiamo ossigeno per qualche ora. Cerca il mission log. E così facciamo la scoperta di quello che è il nostro zaino. Di com'è strutturato in modo un po' così inefficiente, secondo me, però. Questo è il classico. La classica tecnologia. Che tra l'altro è la stessa tecnologia dei film che vedevo a piccolo. Non sono degli anni 60, però... Eravamo vintage dai tempi noi. Va bene. Perfetto. Qua abbiamo altro. Risorse riserve di cibo. Ovviamente non sappiamo che fine abbiamo fatto, non sappiamo nulla, non sappiamo neanche se i nostri compagni se ne siano andati e ci abbiano lasciato qui, però, insomma... E poi, ecco, pieno stile, queste scatolette metalliche con... Con dentro... Ecco. Qua praticamente, vedete, ci sta guidando ad imparare l'ambientazione. Praticamente noi abbiamo varie cose. Qui ci dice che siamo su Regis 3, quindi ricordiamo, insomma, dove siamo. E abbiamo dei punti salienti dell'ambiente circostante che abbiamo identificato, che abbiamo mappato. E quindi, grazie a quelli, inizieremo a muovere i primi passi su questo pianeta. Forse sono già in libernazione, stanno già volando via, insomma, non lo so. Quindi dobbiamo andare a vedere che cos'è questo pianeta. Cliccando qua, praticamente, per qualche ragione, ci siamo divisi in due gruppi. Quindi, il primo ha fatto un campo. Mi chiedo se ero con loro o ero da sola. Questo è il posto di atterraggio. Entrambi i gruppi sono atterrati qua. Vedete che qua ci sta identificando proprio tutta la mappa. Abbiamo preso due lander alla superficie. Non lo facciamo solitamente, ma forse il primo era rotto. Sono tante domande quelle che ci facciamo. Intanto continuiamo a sfogliare, vediamo la... Il primo gruppo ha esplorato una zona lì, senza biologo, boh, strano. L'altro, invece, l'altro gruppo ero solo io. Beh, ho preso un differente percorso. Quindi andiamo avanti e vediamo se ne scopriamo di più. Ok. Questo percorso ci conduce a... Il campo. Ok, devo andare direttamente al campo. Stavo... ero diretta al campo. E praticamente qua c'è l'area documentata che è l'area dove ci troviamo noi. E ci sono delle zone... Adesso dammi un segno. Mandiamo un segno, mandate una sonda, un fire, niente. Vabbè, comunque... Vedete che qua abbiamo... Tre... Allora, qua abbiamo una corda. Dice che lì c'è una corda e lì ci sono dei cane... Needle e crocco. Perfetto. Adesso scopriremo subito che cosa dobbiamo fare. Find your exact location. Ok, per farlo... Qua dice che c'è un cane. Noi abbiamo questo bellissimo. Gli fa via anche la polvere. Una sorta di monocolo con cui possiamo andare a vedere... E possiamo andare a fare... Non sembra un cane questa, perché c'era un cane. Questo è... Ok. Attenzione, lì abbiamo trovato la corda. Posso andare vicino, vedete... Ed è una corda. Quindi la corda è assegnata sulla mappa. Ora posso andare indietro e vedere se... C'è qualcos'altro che trovo. Dovrebbero essere tre le... Le... Le strutture. Quello è un cocodrillo, chiaramente. Fatemi togliere un attimo questo e vediamo. Ok. C'è anche quella. Che è il cane. The dog. Perfetto. E adesso compariremo sulla mappa, perché... A breve, quando avremo... Ok, così. È un occhio di un needle. Che non so cosa sia un needle, ma va bene. Serpente, forse. Vabbè. E poi abbiamo il cocodrillo. Ok. Abbiamo triangolato la nostra posizione e sappiamo che noi siamo qua. Perfetto. Moment. Ok, ci rimettiamo lo zaino in spalla e ci mettiamo di nuovo in marcia per... Di nuovo. Insomma, cominciamo la nostra avventura. Vedete che... Iniziamo a camminare e iniziamo a... Possiamo anche sperimentare. E non lo definirei un survival perché comunque è un... Abbastanza guidata come storia, però ci porta a vivere un'esperienza con i suoi suoni, i suoi effetti, i suoi misteri. Insomma, perché non sappiamo perché siamo qui. Dove sono finiti tutti. E abbiamo trovato un oggetto che praticamente è... Che non so cosa sia. Ah, ok. I'm taking it. Sono in un canyon. Perché poi possiamo, col tab, vedere dove stiamo andando. Quindi noi dobbiamo arrivare al campo, quindi dobbiamo capire da che parte andare. E sicuramente qui possiamo scendere. Ok, vedete che... La gravità sembra leggermente più bassa a quella a cui siamo abituati normalmente. Ho trovato qualcosa sul tracker. Forse il beacon. Diceva, non è qualcuno dell'equipaggio, però potrebbe essere il mio beacon. E infatti il beacon l'abbiamo trovato. Poi, onestamente, a me fanno impazzire queste cose, queste animazioni qui dove... Ma in ogni gioco, non in questo in generale. Dove noi andiamo a... Prendere gli oggetti, fissarceli all'equipaggiamento. Come vediamo, adesso noi abbiamo il beacon, quindi anche gli altri potrebbero vederci. Gli altri membri dell'HRU. Prendiamo la mappa e vediamo dove dobbiamo andare. Allora, qua ci stiamo inalberando di là. Forse devo andare di là. Non so, vediamo. Sì, poi non si può cadere giù, quindi... Adesso, poi sembra sempre di chiamarlo in modo negativo definendo un gioco walking simulator, però... Cammina. Insomma, ci sono tanti giochi dove si cammina. Camminare fa bene. No, però, voglio dire, io spesso magari guardiamo dei film di avventura, di esplorazione, un po' la Giulio Verne, insomma, viaggio al centro della Terra, quelle cose lì. Le guardiamo passivamente. Sicuramente stiamo rivivendo un'avventura in prima persona ed è un'esperienza che, dal mio punto di vista, fa parte dell'intrattenimento moderno, ma non sto dicendo niente di nuovo. Quindi io continuo a sostenere giochi di questo tipo, nonostante magari qualcuno di voi non lo penserà. Comunque, siamo finiti in un liquido misterioso. Potrebbe essere acqua un altro liquido. Non potrebbe, potrebbe non essere facile riempire. E qua ricorda la terza regola, insomma, ci sono varie regole, dice l'acqua, non so se è venenosa o meno, ma... E questo è un flashback. Io adesso tutto bene. Ah, ci hanno svegliato. Non ricordo che abbiamo. Dalla capsula del creosonno. Sei già sveglio? Bene. Parliamo. La mia mente è ancora in ibernazione. Chiaramente il tuo senso degli umori è il primo a svegliarsi. Dicono che un membro dell'occupaggio non sta bene. Va veloce, quindi faccio pratica. Devo fare stretching alle gambe. E' un'azione, sì, ti intorpidisce. E' un'azione che vi dice... Ma va bene. Questi sono, cosa sono i primi ricordi di... Mi tiro su. Così conosciamo anche i miei umori dell'occupaggio. Quanto dura il gioco? Non ne ho idea onestamente, ma non mi stupirei se durasse 5-6 ore. Perché sono tutti giochi comunque di questa durata, bene o male, che vi fanno vivere un'esperienza. 30 euro... Li vale. E se vi piace il genere, assolutamente sì. Anche perché magari un film dura 2 ore e lo pagate 10 euro, quindi... Ci sta. E' sempre dell'esperienza, quello che si cerca in un gioco. Se volete nutrirvi di dettagli, di storia, di immersività in questo tipo di fantascienza, il gioco li vale. Poi è ovvio. Ci fosse uno sconto. Invece di 30 pagate 19, 99, 15 euro o ancora meglio. Più banalmente si potrebbe parlare magari di un 24, 99, anziché... Tanto sto saltando i dialoghi nel senso che non sto guardando... Dice che ci siamo svegliati in un posto sbagliato. Siamo arrivati in un posto sbagliato. Bevi questo, Jasner. Tieni questo, Jasner. Ok. Ok, non va molto bene la situazione. Ok, no, mi ha detto probabilmente qualcosa sulla legge lì dell'acqua, ma non l'ho letta. Comunque diceva che bisogna fare attenzione alle acque che si trovano, però potremmo non trovarne più per un po'. Comunque, adesso possiamo correre e possiamo andare a cercare questo... Ok, di là, direi. Poi ovvio, il colpo d'occhio non è... Vi dirò... Le rocce sono decisamente sotto il dettaglio di quanto abbiamo visto in Starfield, ad esempio, perché le rocce lì sono bellissime. La risa sui pianeti alla distanza è meglio questo. Penso di riuscire a vedere la nostra nave. Non stai lasciando l'orbita senza nemmeno, è vero? Carino perché ti metti qui e vedi, ti fa riflettere, vedi tutto questo riflesso, questo vetro sporco e dici, eh, la nave è lì, ma noi perché siamo qua su questo pianeta dispersi, condannati a morte certa? Vedete anche lì sulla bellino il fatto che comunque vediamo l'interno del nostro casco e sulla sinistra c'è il microfono. Mi rendo conto e mi scuso ancora una volta che tante volte posso dare motion sickness per il mio movimento veloce. Cercherò di limitarlo, insomma, però questo non è uno di quei giochi dove devo prendere in mano migli oggetti, quindi direi che siamo abbastanza tranquilli. Allora, bellissimo! Aria vulcanica, tempesta di sabbia. Su alcuni pianeti, alcune tempeste durano anche centinaia di giorni, spero che non sia questo il caso. Questa è un'aria con un vulcano attivo. Che bello! E le altre temperature possono portare all'estinzione totale della fauna. Non c'è polvere nell'aria, il cielo è pulito e il terreno sembra all'atterite per me. Forse non è altamente fertile, ma non è totalmente desolato, insomma, è improduttivo, sterile. Ok, quindi questo è quello che ci si pone davanti. Voglio vedere se... No, il campo è decisamente dall'altra parte, quindi bisogna andare avanti. Io poi, dato che è un viaggio, un'esperienza, insomma, io voglio portarvi l'idea di questo gioco, quello che porta, ma non vedremo molto più di quanto abbiamo visto adesso, perché sarebbe un delitto. Allora, arriviamo giusto giusto dall'altra parte per vedere cosa c'è. Poi so che tra voi ci sono molti giocatori di vecchia data, insomma, che magari hanno amato come me molti titoli della fantascienza. Tenda, eccolo lì. Oltre 400 metri in linea dritta. Ti vedo, mi vedi? No, evidentemente non c'è, però sono là. Ho bisogno di... ok. No, dicevo, magari molti di voi giocatori di lunga data hanno amato, nell'infanzia, capolavori di fantascienza vecchia, Dagli, Star Trek, l'Original Saga, passando per il pianeta proibito, con un giovanissimo Leslie Nielsen, io l'ho amato tantissimo, quello. O anche il romanzo, i film di Viaggio al centro della Terra, insomma, i primi alien, insomma, la fantascienza è tutta bella. Trovo meno bella quella recente, forse. Continua a maciare verso il campo. Perfetto. Quindi è un mistero vedere che cosa c'è qui. Poi ovvio, questo non è uno shooter, cioè nel senso che esploreremo, scopriremo i misteri, scopriremo cosa è successo a questa spedizione, avremo i flashback che ci racconteranno cosa è successo nella vita della protagonista, ma non è uno shooter, non è un alien isolation, non è niente di quanto magari visto in altri titoli. Qua mi puzza un po' di flashback, perché adesso stiamo entrando nella tempesta di sabbia e non sarà semplice. Anche i particolari del livello di ossigeno sul guanto, insomma, è bello. Continua a maciare fino al campo, ok, dobbiamo tenere l'orientamento. Ok, niente. Lo sento dei suoni sotto, ok, sì, ci siamo mezzi ripresi. Lo scappandolo ancora, lo chiamo scappandolo perché alla fine scappandolo era. Che cosa è successo? Dov'è? Abbiamo lasciato anche l'impronta della mano sotto. Ok, la tempesta è finita. Dove ero diretta? Al campo. È là. È impossibile. È troppo vicino alla mia destinazione. Devo aver camminato per un po'. Ma non lo ricordo. Sono andata ancora in blackout. Sì, non eravamo così vicini. Certo. Adesso arriviamo al campo. Anzi, dovremmo in qualche modo salire. Sono così vicina. Ogni passo è... È un dolore. Va bene. Ragazzi, lì sopra c'è il campo. Ci studierò come andarci. Ma per intanto finiamo qua. Fatemi sapere che cosa ne pensate perché sono veramente curioso di vedere se lo conoscevate. Insomma, come abbiamo visto la lingua non è eccessivamente un problema. Però non saranno tantissimi testi da tradurre. Non nego che magari in futuro qualcuno lo potrebbe tradurre se non lo sviluppatore stesso. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Vabbè, questo era The Invincible. Ve lo faccio vedere di nuovo. C'è anche un comic book da vedere. Con la storia raccontata di quello che è successo. Fatemi sapere e alla prossima. Ciao ciao.